Il 26 dicembre scorso mi fu segnalata una perdita di acqua in via Monsignor Arsenio Peccatiello a Castellabate Capoluogo. Il 28 dicembre andai personalmente a verificare. Nel muro inferiore di piazza 10 ottobre 1123 c'era una grande macchia di acqua che si estendeva fino alle scale. Poco più in là poi notai che alcune pietre si erano staccate dal muretto della piazza. A segnalare lo stato dei luoghi nel centro storico di Castellabate è il consigliere di opposizione Luigi Maurano con una richiesta protocollata all'ente comunale. Potete immaginare allora, spiega Maurano, nella richiesta protocollata il pericolo che hanno corso e che corrono ogni giorno gli abitanti e i visitatori del centro storico nel passare per quella strada. Salì in piazza alquanto arrabbiato per delle situazioni che erano conosciute da molto tempo da componenti della maggioranza e che ancora non erano state risolte. Ma i disservizi nel centro storico non erano mica finiti. Via Sant'Eustacchio c'era un'altra perdita. Un vero e proprio rivolo di materiale liquido, non sono certo sia acqua, scendeva dalle scale. Sono tornato dopo 15 giorni con la speranza che chi di dovere avesse provveduto a risolvere tali problemi. Ma niente, sono ancora lì, anzi peggiorati. Allora la richiesta è mirata a svegliare da questo torpore l'amministrazione al fine di riparare le perdite segnalate. In più contiene anche il sollecito per la messa in sicurezza del muretto in piazza 10 ottobre 1123. Bisogna capire però, conclude Maurano, che queste richieste di intervento nascono per l'inadeguatezza, l'incuria e il menefreghismo che ormai dilaga nell'azione amministrativa. Più che un centro storico potremmo chiamarlo un centro stoico, preparato a suo tempo per restare agli attacchi dei saraceni, ma oggi sempre più malgestito dai moderni lanzi che necchi.